Quest'oggi ferettina mia ti sfiderò a chi fa la casa più sicura, a chi è l'agente segreto, la spia più fantastica del mondo Perché dovremo affrontarci in una sfida davvero interessante Quella è la tua casa, questa è la mia casa Che sono identiche? Sì, sono uguali identiche, è fatta apposta Abbiamo delle ceste molto sicure dove dentro troveremo degli oggetti classici da spia Ad esempio i laser che fanno saltare un'allarme se ci passi sopra Delle porte chiuse che si possono aprire soltanto con certi tipi di chiave, eccetera eccetera E l'obiettivo sarà in sette minuti creare la casa più difficile da completare, ok? E battere quindi automaticamente l'altro, è molto molto semplice Ma Steffi, io non so niente Lo so Non mi hai spiegato come si fanno ste robe Come pretendi che lo faccia adesso così su due piedi? Beh Ferre, basta che apri le ceste e tutto ti sarà chiaro Stefano la password, ho già provato ad aprirle Che password? Se già mi metti le cose con le password come posso prendere i miei materiali? Non è vero, Ferre, guarda A me si apre Dai Steffi, perché l'hai fatto tu e quindi tu sei la password L'abbiamo capito tutti Vai, fai tasto destro 5, 5, 5, 5 Ok Che banale Ti spiego come funzionano Non so, vedi che sono tutti oggetti strani, come si usano? Prima di tutto Ferre non sa come si utilizza Perché? Perché la scorsa volta avevamo fatto una sfida con i blocchi invisibili Tutte quelle belle robe, dei passaggi segreti Mi ha massacrato e quindi ho fatto Stavolta non le faccio capire nulla Sono chiaramente migliori di te Appunto, oggi non puoi vincere Non sai neanche come funzionano gli oggetti Te li spiegherò Io ti spiego rapidamente Quello che capisci, capisci Quello che non capisci, non capisci Allora, io entro a casa tua, spio Davvero a spia Ok Capisci il gioco di parole E ti copio Allora Password protected chest Impostina password per aprire la password L'acqua è lava E la lava è acqua Molto cattivo Ok Ok Tutte queste cose molto classiche E poi si arriva dopo la fornace al laser block Se tu metti due laser block a distanza massima di cinque blocchi l'uno dall'altro Si forma un laser dove se ci passi sopra subisci dell'anno I classici laser che si vedono anche nei film Esatto Ok ok Inventory scanner Praticamente tu dici che se qualcuno passa in questo laser Quindi è uguale al laser block però è un altro tipo di laser Tu imposti degli oggetti E dici che se qualcuno passa sopra quel laser con quegli oggetti li vengono distrutti Ok Ma non ho capito nulla Steph Questo non è molto importante Poi dei recinti elettrificati Poi il keypad Ha la stessa funzione della chest Quindi con la password Però semplicemente sta in alto Lo puoi utilizzare per far aprire una porta La keycard reader Ok Praticamente tu gli imposti Che tipo di chiave hai bisogno per poter aprire quella porta Esempio Ok Ci sei? No Ti sono reso conto Che non abbiamo una cosa Cosa non abbiamo? E le porte di iron E infatti dicevo dove sono le porte di iron Steph Stai pessimo Stai pessimo in tutto No non ci penso Io sai che faccio? Me le do solo Dai No Ferre sono indispensabili Non posso giocare se non me le dico a me 64 a testa La 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 A me Allora dove sono? A me 30 a te 64 No a te una te ne do No una è troppo poco Una Ferre Arrangiati Ferre me ne serve più di una 2 Un po' di più 3 4 basta 4? E' il mio limite Io ne ho 60 e tu ne hai 4 Ok Accetto il mio limite No così impari Impari Perché io non ci ho capito niente Mo di questa mod Lo so Che devo fare? Quindi ai 7 minuti non si può sgarrare Perché la scorsa volta No ne voglio Ne voglio 50 Quando mi ha massacrato Perché non ho capito niente Boh comunque in poche parole Crea una stanza finale dove devi arrivare E prima di arrivare a quella stanza finale Metti un po' di porte che sono chiuse Dove sfrutti il keypad E che log E nascondi password E queste chiavi un po' in giro per la casa Bah Mi andrà malissimo Ma ci provo Ok Allora Avvio il timer Eh Sì Aspetta Prima mi prendo anche io gli oggetti Un attimo Perché sono troppo poche Quattro porte Io non so neanche come sfruttarne una Sono davvero 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 troppo poche Praticamente noi facendo così Possiamo dire che il codice qua Ad esempio è Ma devo scrivere a qualche parte Che se no me lo dimentico Qui Mi sto segnando il codice Ho notato Ok Altrimenti lo dimentico Poi faccio salva Quindi quando io vado a mettere Questo codice Che succede Steph? Che non funziona Come non funziona? No Non iniziare Feri aveva sbagliato le porte Perché non conosce giustamente le cose E non me l'hai detto Mi hai detto da mille iron Ah Io ti odio Ok Comunque è un po' stato Che quindi per entrare qua Bisogna fare così Però adesso dobbiamo giustificarlo Quindi noi Cosa andiamo a fare? Andiamo a scrivere Ci siamo capiti Consolini È vero? Noi ci capiamo sempre Non c'è bisogno che io finisco le mie frasi Perché altrimenti puoi fare capisce Ok Perfetto Faccio così E poi Da vera persona cattiva Quanto son cattivo Lo sono proprio tanto Ok Perfetto Noi qua andiamo a mettere questo Prima ricontrolliamo che sia tutto a posto E sì Lo è Ok Devo fare sign Ok E adesso Perfetto Quindi noi questo lo nascondiamo qua Poi continuiamo a fare così Tra la lera Tra la la E Fere è già impazzita Qua ha già finito la partita È già persa per lei Steph non lo so Poi Decidiamo che L'obiettivo È arrivare qua È aprire una porta Quindi cosa facciamo Creiamo una piccola stanzina Abbastanza piccola Tanto non ci serve Minimamente a nulla Ovviamente tutta deve essere bella tapata Qua lo spazio per una porta Non è facile poi No non è facile Cioè con 7 minuti devi fare proprio i miracoli Non è facile Sì in 7 minuti bisogna fare per forza i miracoli Allora qui dentro Noi mettiamo il nostro premio Che sarà Una di Tipo questa Voglio togliere questa Così si capisce che Appunto è finita la partita E ora Io potrei fare che Questa porta qua È protetta Da questo Anzi no E non posso più toglierlo Ok E qua devo mettere Perché non si possono togliere le cose Vabbè Ormai dobbiamo utilizzare questo Mettiamo Ok Mi devo segnare anche questo codice Ma quanti codici mi stai mettendo Io però ne ho fatto uno Allora E devi sia trovare Vabbè lo vedrai dopo Dai non ha senso Esatto Perché te lo sto dicendo infatti Comunque per ora è uno Ok 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 Stef mi hai troppo incasinato Non mi hai detto niente Non mi hai fatto capire Con largo anticipo Cosa dovessi fare Quindi Beh ma Hai capito la scelta La mod semplice Era complicatissima Da capire Lo so Era super complicata Lo so Cioè sei un pazzo Beh oggi Stef vince Venga 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 Forza Vincere io Eh sì Venga venga Com'è Allora Benvenuta a casa mia Ok Ok Parte con una bellissima Porta chiusa Con un codice da trovare E puoi immaginare dov'è Via il tempo Ok Devo aprire tutte le ceste Tanto non sarà qui Perché Stef è un burlone Che ridere Vabbè tanto tu puoi impazzire Dentro la mia casa Sì Davvero È piena di ragnatele Ti dico solo questo Ragnatele 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 No perché Io non le usate le ragnatele Cioè probabilmente Se cadi in una trappola Non esci più vivo Questo è il senso Ok Non so neanche se Eccola qui Eccola qui Eccola qui Ho trovato il libro Perfetto 9467 Ok 9467 Non me la ricorderò mai E siamo a 45 secondi 9467 Perfetto Ok Allora vediamo un po' Qua richiede Non so di che livello Ok una chiave Io passo Io non so perché il mio non fa danno Ma perché non fa danno Non lo so Neanche il mio faceva danno Non lo so usare bene Ma così è facilissimo allora il mio eh Cioè te lo dico già Perché ovviamente si basa tutto su queste cose che dovrebbero far danno Ok Ma mi sembra troppo se Non penso che sia per questa porta Invece sì Ok Quindi vado sotto Devo trovare il codice per quella di sopra Oh guarda che stiamo andati anche un po' Mh Perché ce ne sono così tante? Perché tu non sai Tu stai cercando un codice Non una chiave Ok Ora capisci Capito? Ok 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 Vediamo se riesco a prendere queste Allora ti spiego Livello 1 Livello 2 Se tu hai provato un livello 2 Le livello 1 Già non funzionano Ah questo è sul livello 1 Questo è sul livello 2 Ok C'è scritto Vuol dire che ti serve il minimo una livello 3 Ok Ok qua Ok Ok ha trovato nella fornace la livello 4 Ok Vediamo un pochettino 4, 5, 7, 2 Ok 5, 7, 2 Siamo a poco più di 2 minuti 4, 5, 7, 2 Dove la dovevo mettere? Dai ma devo usare sempre la stacchiava Sì Qual era questa? Attenzione Non mi ricordo più dove devo andare Qui sopra 4 Non è così semplice Dai Invece sì Perché c'è un livello 5? Cosa? Perché c'è un livello 5? Eh la ricompensa Ah ok Ok Ma io Vabbè dovrei vedere la mia ricompensa Ti ho scritto un messaggio per insultare Ho scritto un libro con un insulto Vieni vieni che è difficile anche uscire a questa casa Forza muoviti Veloce Ok Ferro ci ha messo 2 minuti e 35 secondi per essere esatti Non è troppo tempo Però secondo me l'ho fatta carina no? C'è la bellina Cioè pensavo Allora Io ho sempre fatto la Avvio? Aspetta Allo stesso ragionamento della volta squersa Pensavo saresti stato più cattivo Quindi forse un po' esagerato Capito? Stiamo a vedere Dai vediamo Vai Aia Quelli vanno danno però Password Ok Ho trovato una password La password è il giorno del mio compleanno Ok Che non te lo ricorderai mai? Cavolo mi sono un po' incastrato Ok Io non mi ricordo più Una keycard non ce l'ho Quindi di lì non posso ancora andare Oh mio dio Io te lo so che ho fatto esagerato Allora tanto questi robi non fanno danno Pensavo te lo facessero almeno a te invece no Io mi sono già persa Cosa dovevi fare? Aspetta Keycard di livello 2 Che poi io ovviamente ho le mie keycard raga ma non le uso No beh certo dai Sai beh troppo noioso Dove stare a buttare sempre tutto e così via Quando funziona sono a poco meno di un minuto Però mi sa che c'era una keycard anche qua Che si apre quindi posso andare di sotto Ok Ho visto Io non ce l'ho di livello 2 Perché se no non mi fa venire qua La password del giorno è il mio compleanno Quindi la devo mettere qua Ma mese e giorno Mese e giorno anno Cosa devo fare Fere? Eh giorno e mese Giorno e mese Ok E c'è prima il giorno e poi il mese? Come te l'ho detta? Giorno e mese Con pure lo zero? C'è lo zero? Il mio mese non inizia Eh vabbè Cioè te lo sei ricordato? Sì Ah 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 cesta è sbagliata La password Capito? La chiave per poi andare nell'ultima stanza Non è lì È nell'altra? No è in un'altra cesta Che devi trovare Però preoccuponditi e farti perdere tempo Capito? Perché sapevo che l'avresti notata La cesta è segreta E si apre sempre con la stessa password Però devi andare a cercarla Steph Ok Io non mi ricordo Allora poi Sopra che avevi già fatto C'è no di capire cosa c'era lì Cosa manca? È un posto che non hai proprio visto Ma Hai sfruttato Dove stai andando? Questo? Tutto per farti perdere tempo Perché hai detto Guarderà tutta la casa Prima di pensare a questo passaggio No? Ho perso Sono a 2.25 E sono in un sotterraneo Maria ma sono a scendere le stesse scale Ci vogliono due minuti Lo so È per quello E poi devi tornare al piano di sopra Ovviamente c'è l'ultima stanza Due minuti e quaranta Ho ufficialmente perso Ma devi andare Perché devi leggere il messaggio Steph E io non ti ho lasciato una chiave come premio Ti ho fatto un bel messaggio Perché perdo sempre? Perché? Perché? Cosa ho fatto di male? Oh e io non sapevo niente Guarda hai fatto una cattiveria Stavolta non spieghermi niente Era difficilissima da fare sta modo L'unica cosa che avevo capito Era le password dei laser E i ricinti E li ho spammati Steph E li ho spammati per farti perdere tempo Perché è l'unica cosa che potevo fare Ma 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 Cosa avevo preso? Ah ho preso la livello 3 Ah ok No la livello 3 Ok Pure? Sì Per renderlo più interessante Per arrivare poi a leggere il messaggio Non gli è piaciuto Steph Aspetta se mi apri la porta ti do una mano Dai Magari col picco Adesso più Esplodi Te l'ho detto Era tutto per farti perdere tempo Arrabbiato Di scale e di ragnatela C'erano 2 minuti e 30 Oh tu me le date Non mi hai spiegato la mod Dovevo fare Steph alla vecchia maniera Alla vecchia maniera Si rallentano i nemici Steph è scemo Questo era il mio premio Qua sotto compariranno altri video Questo video è terminato Come l'altro È bruttissimo È orribile Non credo che faremo mai più Un versus Dove ci sono O passaggi segreti O cose da spia O cose per fregare l'altro Perché a quanto pare Non sono abbastanza bravo Ci ho messo poco meno di 4 minuti Lei ce ne ha messo 2 minuti e 30 È stato un video orribile Però premete qualcosa qua sotto Che sarà meno orribile di questo video E ci fermiamo così